Va bene, allora proviamo ad affrontare questo campo minato. Abbiamo fatto delle scelte importanti su come rappresentare le informazioni e adesso dobbiamo, almeno sembrano per il momento le informazioni che ci servono, magari scopriremo che ci serviranno altre, questo non lo escludo, ma dovrebbero essere sufficienti per i primi due passaggi che sono scritti qua. Quindi il primo passaggio è creare una matrice n per n, posizionare le m mine che devono essere m, in seguito il programma calcola una matrice di numeri interi in cui ciascuna contenga il numero di miei presenti nelle otto caselle diacenti, tra parentesi esistono perché c'è il problema dei bordi, e parla solo delle caselle diacenti e non la casella stessa come abbiamo fatto noi. Quindi ci accingiamo a fare questi due passaggi. Allora, visto che il programma sarà magari un po' lungo o articolato, lo organizziamo in funzioni, quindi io per abitudine definisco una funzione principale che chiamiamo main, che è il programma principale, in cui effettivamente mettiamo le istruzioni principali, che poi questa funzione a sua volta chiamerà altre funzioni, che poi ci creiamo man mano. Poi normalmente quando articoliamo un programma abbiamo sempre un mix tra operazioni bottom up, cioè prima faccio la funzione e poi la chiamo, e top down, cioè prima decido di chiamare una funzione e poi dopo ci penso a implementarla. Però come struttura è molto comodo avere un programma fatto di tante funzioni, di cui una è quella principale, e poi alla fine ho un'unica istruzione vera e propria che metto in fondo, che è la chiamata del programma principale. Quindi visto dal punto di vista del codice, il mio codice sarà def, 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 definisce una serie di funzioni, main, chiamano la funzione main. Questo mi aiuta perché ciascuna funzione avrà le sue variabili e non ho nessun rischio che una funzione vada a leggere, toccare, modificare le variabili delle altre. Questo perché tutte le variabili che definisco al di fuori delle definizioni di funzioni sarebbero variabili globali, quindi visibili da tutti, e se tutti le possono vedere, tutti le possono rovinare. L'unica eccezione è se abbiamo delle costanti da definire in alto. Allora, le possiamo definire come variabili esterne a tutto, che siano quindi visibili a tutti, con l'accordo, la promessa che nessuno le vada a modificare, perché sono costanti. Allora, ragionando in modo top-down, cosa devo fare? Devo leggere N e M, costruire la matrice N per M contenente le mine, N per N, scusate, N per N, ma c'è quadrato contenente M e mine, e poi calcolare la matrice degli adiacenti, delle mine adiacenti. No? E poi stampiamo sta roba qua. Allora, primo passo, leggì N e M, facile. N uguale input, int di input, lato della dimensione del campo minato. M, int, input, numero di mine da inserire. Ok? Poi, vabbè, qui ci dovrà essere un controllo dell'errore, nel senso che N deve essere maggiore di 2 e minore di una roba ragionevole. M deve essere maggiore di 1 e minore di N quadro, ma tanto minore di N quadro, perché altrimenti abbiamo una cosa che è piena di mine, eccetera, eccetera. E poi devono essere numeri interi, non negativi, eccetera. Vabbè. Sono tutte cose che sappiamo fare, aggiungere il controllo degli errori. Cioè, quando poi dovremmo farlo per bene, aggiungere il controllo degli errori, anziché mettere un input direttamente nel main, chiamiamo la funzioncina, leggì N, la quale farà tutti i controlli che deve fare. Però per ora va bene così. Anzi, addirittura, per ora scusate, sono pigro, ma mettiamo un commento qua, e mettiamo N uguale 4, M uguale 3. Così non devo ogni volta inserire questi numeri, ok? Ci schiaffa dentro delle costanti. Per provare. Poi, dopo le togliamo, facciamo l'input. Solo per velocità di sviluppo, ok? Facciamo finta che l'utente abbia inserito 4 e facciamo finta che l'utente abbia inserito 3. Da togliere. Poi, costruisci la matrice contenente M mini. Allora, questo qua sarà un po' di ginnastica con le tabelle. Io direi che per non complicare il programma principale lo metto in una funzione. Quindi posso costruire una matrice che posso chiamare mine uguale creamine NM. Sei bravo. Cioè, la funzione creamine, che adesso mi scrivo, che non è che me la regalano, però è chiaro che questa funzione ha bisogno solo di sapere i valori di N e i valori di M per creare tutto e mi restituisce una tabella di N righe per N colonne contenenti N quadro valori che abbiamo deciso di essere vero o falso dei quali, di sicuro, esattamente M saranno vero e tutti gli altri N quadro meno M saranno falso. Questo è il contratto di questa funzione. E queste mine le posizionano possibilmente imposti uniformemente distribuiti. Questa è la funzione. Salvo questa tabella in una variabile che ho chiamato mine. Poi dopo avrò un'altra funzione. vicini calcola adiacenti di mine. Cioè, un'altra funzione che mi costruisce una tabella anch'essa N per N di numeri interi partendo dalla tabella delle mine. ok, quindi quello che abbiamo detto due, una tabella di N per M di booleani lo chiamo mine la tabella N per M oggi niente N per N di interi la chiamo vicini perché dice quanto è vicine va, le mine vicine femminile. Quindi, il programma si riduce a implementare queste due funzioni. La funzione calcola adiacenti non ha bisogno di null'altro se no la tabella con le mine. Gli interessa sapere quante mine ci sono? No. M non gli serve. Gli interessa sapere quanto è grande la tabella? Beh, certo che sì ma se la tabella se la va a misurare non si fa un LEN e si sa interamente quanto vale N è inutile passarglielo come argomento. Cosa entra e che cosa esce da ciascuna funzione? Ci aiuta a parcializzare il ragionamento. Ok, commentiamo per ora questo e cominciamo a implementare quella di prima e poi ci mettiamo una print di mine per vedere cosa è uscito. Ok? Allora, implementiamo la funzione creamine che riceve i valori chiamiamoli pure NM li possiamo chiamare nel stesso modo non ciò niente di male però sappiamo che sono variabili diverse quindi non rischiamo di fare pasticce. Allora, cosa possiamo fare? Beh, possiamo creare innanzitutto una tabella quadrata piena di falso piena di valori messi a falso facendo attenzione agli alias di prima devono essere tante righe tutte uguali ma tutte diverse cioè tutte di uguali valori ma diverse come oggetto e poi ci vado a piazzare le mine sopra quindi creo tabella n per n di falso quindi la chiamo min la chiamo tabella uguale vuoto poi poi n volte for i in range di n aggiungere una riga tab punto append e se la riga è fatta di una lista di valori falso ripetute n volte lì dentro c'è aperta quadra quindi sto creando ogni volta una lista nuova non sto riusando le liste della riga prima ogni volta che faccio append l'argomento di append è una lista di n falso 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 n volte creata sul momento diversa da quella che ho appena creato l'iterazione precedente ok ricordiamoci c'è una parentesi quadra quindi vuol dire sto creando una lista non sto riusando niente non ci sono alias qua che ci rompono le scatole ok quindi ho creato una tabella fatta di n per n valori fari falso qui è facile perché la riga di tanti valori fari falso basta che ne prenda uno e la moltiplichi per n non la concatenazione delle stringhe con se stesse n volte se io avessi invece se dovessi facciamolo come parentesi metterci dei valori diversi ok calcolati magari anziché tutti uguali devo mettere 1,2,3,4,5,6,7,8 e poi 9,10,11,11,11,11,11,11 eccetera dei valori diversi in ogni casella non lo posso fare di botto così e allora come posso fare? e mi costruisco i valori e poi uno a uno li aggiungo facciamo finta di non ricordarci che si possono creare dei vettori così allora farei che una riga inizia come una cosa vuota e poi for j in range di n perché sono sempre n le colonne farò riga punto append di false attenzione j non i ho detto j ho scritto i 20 fustigate se io ho una variabile i che indica che governa un ciclo non posso ripacioccare la stessa variabile dentro il ciclo in particolare non posso usarla come indice di un altro ciclo interno se no i due indici si sporcano a vicenda ok? quindi l'ho detto poi mi è scappata una iscritta ma male quindi questa cosa qui cosa fa? mi crea una riga fatta di n valori falso e poi questa riga cosa faccio? la aggiungo nella tabella quindi questa cosa qua è equivalente a quella di sopra ma attenzione sta appunto appendo di riga mi hai fatto un mazzo prima perché stavo raggiungendo degli alias no non sono alias quelli perché guardate la riga 61 che è quella che ci salva ogni volta che passo di list sto costruendo una lista nuova e non ci sono alias qua ogni lista ogni iterazione c'è la sua lista la creo vuota ci butto roba dentro ma lei ha la sua vita indipendente dalle altre quindi chiaro che a questo punto qui al posto di falso ci posso mettere qualunque tipo di espressione calcolo vado elemento per elemento a costruire chirurgicamente cosa deve contenere e poi lo aggiungo dentro un altro modo di scrivere questa cosa che a volte si vede perché c'è sempre un po' di pigrizia in noi è quella di fare per risparmiare la variabile riga a volte abbiamo un senso di risparmiare un po' strano allora dico senti ti aggiungo una riga vuota per ultima e poi ci aggiungo gli elementi direttamente a questa riga che non ha un nome ma è l'ultima della tabella e quindi ci aggiungerei sempre questa cosa qua tante volte ci aggiungo un falso a che cosa devo aggiungere il falso all'ultima riga della tabella quindi avrò tabella di meno uno punto append di falso che fa la stessa cosa ma richiede il doppio del tempo per essere capito io aggiungo la tabella una riga di zero colonne e poi ogni volta che genero un valore nuovo faccio un append l'abbiamo visto prima quando giocavamo con le append aggiungo un elemento all'ultima riga facendo la crescita da zero uno, due, tre, quattro fino a quando avrai elementi come tutte le altre righe e poi passo alla riga successiva perché sono sempre dentro il ford di linea 58 59 la riga è la riga che si incrementa quindi si vedono queste varie forme queste due le ultime due sono la stessa cosa col fatto che semplicemente qua parcheggio di una variabile che chiamo riga me la calcolo con calma e poi l'appendo solo alla fine oppure uno vuole farlo così c'è una riga di codice in meno ma questo meno uno di solito richiede sempre di fermarsi due secondi per dire cosa sta succedendo qua mentre sopra è più chiaro quindi la chiarezza vale più di una riga di codice comunque se no abbiamo la versione sopra questo è facile cioè è facile abbiamo creato una tabella di costanti adesso metto m mine nella tabella nella sì in posizione casuale quindi metto m mine e mi viene da dire faccio un ciclo m volte for m piccolo in range di m decidi dove mettere questa mina allora noi abbiamo deve essere un valore casuale tra 1 ed n per la riga e 1 e n per la colonna quindi userò la funzione rundint che avete già visto negli esercizi del modulo random quindi avrò quindi avrò la riga r uguale randint da 0 a n meno 1 randint è da importare dal modulo random quindi all'inizio del programma ci metterò un import from random import randint randint è una delle poche funzioni in cui indico un range ed entrambi gli estremi sono compresi quindi a e b entrambi inclusi è per questo che devo mettere il meno 1 mi dà un numero casuale distribuito uniformemente tra i due estremi e la colonna sarà la stessa cosa un altro numero casuale da 0 a n meno 1 e quindi questa è la riga e la colonna in cui si trova la emesima mina la prima la seconda la terza la quarta e adesso segniamoci che c'è una mina in quella posizione la tabella alla riga R colonna C la metto vera c'è un rischio qua di mettere meno mine di quante servono no? non metto più mine di quante servono perché è un ciclo che ripete questo esattamente m volte allora ogni volta io faccio m volte un'operazione estraggo due coordinate a caso e ci metto una mina lì estraggo due coordinate a caso e ci metto lo faccio e quindi al massimo avrò messo m mine il rischio qual è? è che io in un'estrazione casuale estragga la stessa coppia di numeri che avevo già stato in precedenza allora metterei una seconda mina dove già ce n'era una e non va bene perché vuol dire che alla fine avrei un numero di mine che è inferiore a m perché io ne ho messo m ma due sono sul stesso posto e quindi incontrano una sola quindi devo fare attenzione che questa cosa qui la posso fare se per caso quella posizione r ciclo estratto contiene già una mina non va bene devo estrarre un'altra e come faccio? per saperlo è facile perché basta che io vada a vedere if tab c contiene già una mina non va bene ok? ne estrago un'altra però non posso dire ne estrago un'altra messa così perché ovviamente la sfiga ci vede benissimo e magari estrago una coppia non va bene ne estrago una seconda e di nuovo non va bene quindi questa roba qua va messa in un ciclo while estraiamo due numeri se per caso in questi due nella posizione data da questi due numeri c'è una mina butto via quegli numeri e ne estrago altri due e poi ricontro in un while ricontrollo se questi altri due a loro volta vanno a beccare una posizione libera e quindi dal while esce perché è falso oppure vanno a beccare in una posizione dove c'era già una mina e allora riprovo a rireestrare dei numeri quando finalmente questo while è soddisfatto nel senso che la sua condizione diventa negativa finalmente potrò arrivare alla riga 81 e dire ok adesso sono sicuro che questa posizione qui che ho estratto non contiene mine e la metto io ok si può fare così si poteva fare diversamente semplicemente mettendo un ciclo while al posto di un for sopra e incrementare la m solamente quando la mina aveva avuto successo ma cinque modi diversi di farlo non è un problema il problema è che noi dobbiamo garantire che ci siano esattamente m mine e quindi dobbiamo gestire cosa succede quando io estraggo un numero duplicato una coppia di numeri duplicati questo capita spesso negli esercizi che è sempre un po' preoccupante nel senso che quando io vedo queste cose qua dico attenzione quel ciclo while lì quanti tentati vi farà cioè se ogni tanto mi capita la sfiga di avere una posizione e poi allora riprovo e va bene vuol dire che ogni tanto faccio due volte l'estrazione però immaginate di avere una tabella 100% 10.000 caselle e qualche folle vi ha detto di mettere 9.500 mine quindi arriva a un certo punto che voi estraete tranquillamente un numero tra 1.100 un numero tra 1.100 cercate lì e c'è già la mina e allora cercate un altro numero tra 1.100 un altro numero tra 1.100 cercate lì e c'è già la mina cioè quando siamo al fondo la prima mina la prima mina va sempre bene la seconda anche va sempre bene se non siamo proprio sfortunati la 9.000esima deve già beccare una casella vuota in una tabella di 10.000 di cui 9.000 sono già vuote già occupate cioè più è alta l'occupazione in questo gioco qua non capita ok però in altri giochi in cui devo dire estrai una carta da un mazzo o cose di questo genere in cui alla fine le devo prendere tutte alle ultime dovrò estrarre come un forsennato numeri casuali finché non mi arriva l'unico libero immaginate l'ultima casella lui deve estrarre esattamente quella coppia 27.95 che sono le coordinate dell'unica casella che non ha ancora una mina e io vado a estrarre numeri casuali a ripetizione fino a quando non esce proprio 27.95 o il numero che ho detto prima che non mi ricordo quindi questa tecnica qua ripeto fin quando non mi arriva un numero fortunato va benissimo se la probabilità che ciò succeda è scarsa se invece ho un problema in cui la probabilità che ciò succeda è elevata questo metodo è totalmente sconsigliabile perché il programma potrebbe rimanere bloccato lì anche per 20 minuti che ne sai guarda che Marfi c'è sempre nel programma che gira allora bisogna usare algoritmi completamente diversi tipo estraggo caso una posizione tra quelle libere non tra tutte e quindi se mi mancano 5 libere estraggo non un numero tra 0 e 10 mila ma tra 0 e 5 e poi vado a vedere qual è la quinta allora lì sono sicuro bisogna andare a mischiantare contro il muro è un po' come uscire dalla porta bendati più stretta la porta più è probabile che io vado a sbattere contro il muro tante volte senza uscire quindi gli algoritmi che fanno la stessa cosa possono essere adatti o no a seconda dei casi in cui vengono applicati questo è più semplice chiaramente la soluzione è più semplice riproviamo e speriamo di essere fortunati in casi più complicati complichiamo un po' se è così ho finito però questa prima funzione ovviamente ciò che ho calcolato ho calcolato una matrice e la restituisco al programma chiamante che la può stampare se è salvata nella variabile mine se la può stampare vediamo un po' cosa funziona se funziona cosa ho fatto qua sei brava termine qua allora falso 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 vero quindi c'è una in alto a destra falso vero falso falso c'è una in seconda posizione falso 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 vero falso 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 quindi effettivamente ci sono tre mine che sono una qua una qua e l'altra qua che non sono le posizioni che avevo messo io prima perché la random non può saperlo se riseguo il programma ogni volta mi dovrebbe posizionare una due tre mine in posti diversi ogni volta diversi e con uguale probabilità ok un'altra cosa da non fare sarebbe prendere dall'inizio della matrice e dire qui c'è una mina sì o no random 10% 5% poi la casa successiva qui c'è una mina sì o no casa successiva qui c'è una mina sì o no ecco se fai così rischi di mettere troppe poco che troppe ma perché magari in media statisticamente ha il numero giusto 1 su m no cioè la probabilità che ci sia in una casella è m su n4 allora uno potrebbe stare un numero tra 1 e m racconto lì n su m4 però poi rischia di averne già messe m a un certo punto e la parte finale della tabella la deve lasciare vuota per forza oppure arriva al fondo si accorge che ne mancano ancora due che non le ha messe quindi in questo caso abbiamo una un vincolo forte devono essere esattamente m e quindi la mia logica è m volte ne posiziono una poi sono sicuro di posizionarne m altrimenti per altri casi potrebbe andare bene a prendere una posizione per volta e estrarre un numero casuale per decidere se ci va o non ci va alla fine ne avrò un numero variabile alla fine con una densità statisticamente nota in media ok questo primo pezzo l'abbiamo fatto che era quello facile tra l'altro perché qua ci sottolinea questo true perché avere una variabile vera o falsa confrontandola con vera non serve a niente nel senso che già la variabile stessa che mi dice se è vera e quindi normalmente non si mette il confronto con true non serve e il confronto con false si traduce in un not più chiaro così contiene dei booleani quindi i booleani sono già delle condizioni da usare nei while e nelle if non c'è bisogno di confrontarle ok questo l'abbiamo fatto dobbiamo fare il secondo pezzo dobbiamo togliere questo commento e creare questa funzione per il calcolo di adiacenti che è una matrice anche questa n per n di numeri interi che dobbiamo calcolare per ogni posizione attuale allora si chiama calcolo adiacenti e riceve come argomento le mine quindi def calcola adiacenti del numero di mine e alla fine deve ritornare la tabella con i numeri come la chiamiamo questa tabella numero di mine vicine quindi la prima istruzione la so già l'ultima istruzione anche cosa posso fare beh la prima cosa che posso fare è costruire una matrice n per n di zeri e poi li vado a modificare giusto per avere una matrice n per n all'interno della quale lavorare quindi posso prima costruire costruisco una matrice di n per n zeri e questo lo sappiamo fare for i in range in range i in range di n non punto append 0 per n dove ovviamente n qua non lo conosco ma lo posso calcolare facilmente perché non è una variabile di questa funzione è una variabile della funzione main ma avendo la tabella delle mine n è il numero di righe delle mine volendo possiamo già anche provarlo questo programma che mi stampa non solo falso vero ma mi stampa anche questi zeri qua che ovviamente sono sbagliati come valori ma la struttura dati c'è già 4 per 4 fatta di zeri adesso il problema è quello di calcolare per ciascuna posizione il numero di mine adiacenti allora quando ho detto per ciascuna posizione automaticamente mi ha scattato il doppio loop l'istinto di fare ok per ogni riga e per ogni riga per ogni colonna devo fare per ogni posizione e per avere per iterare su tutte le posizioni non posso fare altro quindi per riga in range in range di n per colonna in range di colonna io faccio opposta a volte usare i e j a volte usare riga colonna così ci dobbiamo abituare che il nome della variabile che usiamo per indicizzare non conta niente quanto è il suo valore cosa devo fare qua adesso ho la matrice delle mine ho una riga ho una colonna devo mettere nella matrice numero numero dei numeri in quella riga in quella colonna il valore degli adiacenti alla casella in quella posizione riga colonna quindi è facile dirò che num riga colonna è uguale a conta di mine riga colonna dove conta una funzione che non c'è ma se ci fosse prenderebbe il campo minato la riga e la colonna che mi interessa e va a calcolare a vedere le caselline vicine e in quante di queste c'è una mina e mi restituisce un valore intero questo valore intero lo metto dentro la matrice in quella posizione lì e sto andando sto decomponendo top down il problema ogni volta mi trovo una parte più rognosa e quando mi incontro la parte rognosa mi fermo e dico ma questa parte qua che cosa ha bisogno in ingresso e che cosa ha bisogno in uscita e dico ok la metto in una funzione qui uso la funzione in cui sia chiaro che informazioni ho e che informazioni mi servono poi mi preoccupo di implementare la funzione così abbiamo tutte funzioni di poche righe senza troppi livelli di annidamento che diventa poi difficile seguire cosa fanno se questa funzione conta esistesse il programma sarebbe finito non esiste ancora ma tra un po' esisterà def conta mine riga colonne allora cosa fa questa conta determina quante mine ci sono nelle caselle adiacenti a mine di riga colonna restituisce un intero tra 0 e 8 0 minimo si e 8 massimo questo fa non ha bisogno di capire nient'altro e allora cosa faccio vado a vedere nelle 8 posizioni adiacenti quindi r-1 r r più 1 come righe c-1 c c più 1 come colonne dove esistono gli r e c corrispondenti più 1 e meno 1 corrispondenti escludendola quella centrale quindi tot uguale 0 in fondo return tot questo è facile adesso questo tot conta quanti true avrò visto nelle celle che vado a cercare allora ho bisogno dei cicli che mi vadano a esplorare questo avvicinato della cella corrente allora posso avere un ciclo di riga un ciclo sulle righe e un ciclo sulle colonne non è uguale in e poi farei una cosa del tipo if if mine r i j tot uguale tot più 1 ho questo primo abbosso e dobbiamo far aggiungere tanta roba quindi qual è l'idea di ok ho un punto centrale rc mi muovo intorno a questo punto centrale quindi l'indice di riga i farà dovrà fare r meno 1 r r più 1 l'indice di colonna j dovrà fare c meno 1 c c più 1 poi devo escludere tutta una serie di casi che sono quelli che non devono andare ma quei casi che non escludo vado a vedere se in quella posizione i j che sarà un punto nell'intorno di rc c'è la mina se c'è incremento contatore allora mi manca da fare su due cose uno è mettere a posto quei range cosa scrivo lì dentro e due escludere tutta la serie di casistiche c'è gli indici che non sono validi allora questo primo range su i abbiamo detto i deve assumere tre valori pensiamo al caso normale ok il caso centrale non ai casi laterali che sono quelli più complicati partiamo sempre dal caso più semplice deve valere c meno uno c c più uno quindi questo dovrebbe essere un range c meno uno c più due no perché i con tale righe non le colonne r meno uno e r più due scusate cioè il range il range parte da r meno uno poi incrementa farà r poi incrementa ancora farà r più uno e r più due è l'estremo destro che è ovviamente escluso visto che r più uno mi serve devo mettere r più due come limite massimo si è d'accordo che questo for se non si è d'accordo proviamolo su una REPL fai quel for lì mettendo un valore r vedi quali valori vengono segnati a i oppure oppure c'è un approccio più diretto visto che il for lavora sugli elementi di un contenitore e io voglio che questo for iteri tra questi tre valori che ti dico io allora mi costruisco un contenitore che contenga quei tre valori lì tipo una lista e ti sbatto in faccia quali sono i valori su cui sto iterando non ti obbligo a leggere quel range di ma che cacchio calcolo sto range ah alla fine meno uno a zero più uno ti dico lì è la stessa cosa in entrambi i casi il for sta iterando sullo stesso contenitore in un caso il contenitore l'ho creato con la funzione range che è il super generatore di contenitori sequenziali nell'altro caso visto che ne ho tre te li chiamo per nome in questo caso mi sembra più chiaro una lista è un contenitore una stringa è un contenitore un range è un contenitore e tutte queste cose possono essere tranquillamente l'argomento di un foro per comodità mia mi sono creato una lista che conteneva esattamente i valori su cui voglio iterare multami se vuoi e la stessa cosa suo cugino sotto j che prenderà i valori iterato questo elenco di valori che sono colonna meno uno colonna stessa e colonna più uno o se no tu fai col range per carità metà dello sforzo mio è capire come fare le cose l'altra metà è capire come scrivere in modo leggibile e comprensibile a me stesso prima che agli altri ok così andrebbe bene se la tabella fosse infinita o se non andassi mai a prendere dei valori sui bordi perché sappiamo che i meno uno r meno uno c meno uno r più uno c più uno potrebbero andare fuori dai bordi e il più uno tutto sommato va bene perché se per caso cercassi di accedere a una cella con un ince troppo grande mi dà errore quindi me ne accorgo quando faccio il programma se ho dimenticato un controllo il meno uno è più antipatico perché l'indice meno uno non è un errore va a prendere però l'ultimo elemento dall'altra parte e quindi il programma gira ma tira fuori dei numeri sbagliati quindi questa cosa qua degli indici negativi io non la sopporto ma a volte è comoda però a volte quando uno vuole essere sicuro di avere un indice che sta dentro l'array positivo deve farsi i controlli lui non può pensare che il programma gli faccia quindi tutta sta roba qua va bene solo se i e j sono nell'intervallo giusto l'intervallo 0 n n insomma il solito intervallo ho pensato alla python allora questo lo metto come commento if come lo scriviamo come istruzione vabbè i è compreso tra 0 e n and occhio alla 0 compreso n escluso e j è compreso tra 0 minore uguale j minore uguale minore di n cioè noi partiamo con un rc che sono sicuramente validi sicuramente dentro ma i e j poiché esplorano l'intorno potrebbero debordare allora se per caso faccio un i che vale meno 1 non lo considero semplicemente se faccio un c che vale n quando il massimo sarebbe n meno 1 non lo considero n non è definito vabbè me lo calcolo sopra n uguale la n di mine e quindi questo controllo qua che è quello vero che mi dice se la mina c'è o non c'è lo devo condizionare al fatto che le coordinate esistano poi ancora un altro controllo da fare cioè devo escludere la casella centrale e non è detto che devi togliere 1 perché devi togliere 1 solo se c'è la mina se non c'era non devi togliere niente quindi è meglio non metterlo quindi devo escludere ciò che sta fuori a sinistra e lo fa questo escludere ciò che sta fuori a destra lo fa questo escludere ciò che sta fuori in alto lo fa questo escludere ciò che sta fuori in basso lo fa questo ed escludere la casella centrale quindi and e non solo nella casella centrale not i uguale c and j uguale r i uguale r and j uguale c come faccio a sapere se sono nella casella centrale che i e e i j è uguale a r c questa è la condizione che mi dice che sono nella casella centrale se sono nella casella centrale non devo considerare la casella quindi e non sono nella casella centrale attenzione alle parentesi sarebbe sbagliato scrivere i diverso da r or j diverso da c sarebbe sbagliato perché l'and ha precedenza sull'or e quindi verrebbe considerato come se fossero le parentesi qua intorno quindi però potrei scriverlo così è la stessa cosa ho portato il noto dentro la parentesi e quindi tutti gli end sono diventati or le g di morgan e tutti gli uguali sono diventati diverso ho invertito tutto le condizioni quando porto il noto dentro la parentesi si inverte gli operatori e si diventano i confronti a parole lo dico i è nel range giusto j è nel range giusto e almeno uno dei due tra i e j non è uguale alla coordinata della casella centrale a parole posso anche dire così un pochino più contorto di prima oppure posso ricordarmi che programmo in python e posso fare confronti tra le liste quindi io posso dire and i j diverso da rc che è il più facile di tutti costruisco una lista che contiene i j che contiene rc ricordiamoci cosa vuol dire il confronto delle liste il confronto delle liste sono uguali vengono considerate uguali se tutti gli elementi sono uguali vengono considerate diversi se almeno uno degli elementi della lista è diverso quindi almeno o la i o la j sono diverse dal corrispettivo rc poi di solito per fare queste cose anziché le liste si sono le tuple semplicemente perché boh è un pochino più esplicito il fatto che questo è un dato immutabile una coppia di valori si legge anche meglio perché tra parentesi sembra proprio una coppia no? una lista dice che cosa c'entra una lista qua ma è la stessa cosa non cambia niente se potete fare una lista potete fare la tupla è uguale ok quindi insisto su queste cose per abituarci a cercare sempre di pensare a un livello un pochino più alto se riusciamo rispetto al singolo indice al singolo valore perché abbiamo un linguaggio che ci permette di farlo che ci permette di tirare su un array e non solo su un range ci permette di confrontare delle tuple o delle liste non solo dei valori singoli che poi devo mettere insieme a mano con l'end questo si legge benissimo se i è nel range j è nel range e le coordinate di j non sono proprio quelle del centro è quello che dicevamo parole prima e abbiamo faticato a esprimere prima poi ovviamente vale sempre la regola che sono tutte giuste allora che sono tutte giuste ce lo dirà poi il programma perché adesso non so se credo che siano giuste però se è così abbiamo finito crociate le dita vediamo cosa viene fuori viene fuori una cosa illeggibile allora lui ha messo dove ha messo le mine le ha messa qua qua e dove è la terza ah prima qua vabbè fa schifo stampate così non riusciamo a capirci niente stampiamo qualcosa di più decente anziché una print nuda facciamo due funzioncine print mine e un'altra funzioncina print numeri eh print vicino print mine che cosa farà? vabbè n uguale a l'en mine for cosa vuoi? l'ho fatto for i in range di n for j in range di n if if min dj print una mina non c'abbiamo non c'abbiamo una mina dai l sprint end uguale a niente l sprint uno spazio e poi vado a capo alla fine della riga vediamo un po' se cambiando al posto di print mettiamo print mine viene fuori qualcosa di meglio devo commentare questa che non è fatta cosa ho sbagliato invalid syntax alla riga ah no aspetta qua perché è entrato a volte capita che fate il run e fate lui il programma è bloccato o nella repl o nell'input di un programma precedente e quindi non prende il comando la soluzione è quella che chiude i terminali eccole qua vabbè magari al posto dello spazio mettiamo un puntino per lui forse si capisce meglio la dimensione del campo peccato che questa mina è più grande come icona è più grande del vabbè dai peccato mettiamo la x perché altrimenti non sono ben incolonnate qui vediamo ogni volta il campo diverso adesso facciamo la stessa cosa sui vicini ma questo è più facile for i in range di n for j in range di n print il numero quindi vicini i j senza andare a capo e quando ho finito la riga vado a capo una volta e quindi qua alla fondo stamperò anziché print nel programma principale anziché print ma per i vicini vabbè perché non sono andato a capo cosa ho fatto ah sì devo fare il print dentro il ciclo i e fuori dal ciclo j ok quindi allora 0 1 0 1 questo è giusto che non abbia vicini uno è giusto ha un vicino questa è sbagliata qui non ci deve essere 0 ci deve essere 1 manca qualcosa sopra? no lo scusate ah scusa cominciamo a preoccuparmi ok allora questa qui allora 0 questa 1 va bene perché è quella a sua destra 0 perché lei pur essendo una mina intorno non ne ha e 1 è giusto seconda riga 0 ok 2 perché sono quella sopra e quella sotto 2 2 sempre poi abbiamo 0 1 1 sì questo sempre 1 e questo 2 questi 2 qua ok sembra che quadri adesso possiamo osare di più 10 per 10 quante mine ci metto su 100 caselle mettiamo 20 mine 25 mine no su 100 cose sono tante 15 vabbè adesso strema un volontario che vado a controllare i numeri curioso che le prime due righe siano vuote però non è che comando io la random vogliamo ripeterlo adesso non sono più vuote quindi vediamo ad esempio questa casella qua che in teoria ne ha 4 vicine e infatti abbiamo un 4 qua in mezzo allora a questo punto abbiamo calcolato ciò che serve per giocare bisognerà stampare per utente una griglia vuota e digli inserisci una casella lui dice c'è la casella e tu gli dirai sei morto oppure gli dirai che non è morto ristampi la griglia dove al posto l'utente cosa vede vede una griglia di tutti i puntini oppure di numeri numeri perché cosa corrispondenti alle caselle che lui ha già scelto e dove non è morto e quindi il suo gioco sarà quello di riuscire quando è che termina il gioco quando muori o quando hai scoperto tutte le caselle che non contengono una bomba quindi vabbè adesso c'è la parte questo vuol dire che ci servirà un'altra struttura dati di altre informazioni per ricordarci quali sono le caselle che l'utente ha già scoperto perché se ogni volta devo farti vedere i numeri dove hai già provato devo ricordarmi quali sono le caselle che hai già provato quindi è un altro pezzo di programma che dovremmo provare ad aggiungere nel gioco vero ci sono ancora due accortezze tre accortezze uno è che non so se avete notato la prima volta che scegliete una casella non morite mai anche perché sarebbe quindi vuol dire che lui posiziona le mine solo dopo che avete scelto la prima casella e le posiziona dove vuole tranne in quella casella lì oppure magari l'ha posizionata prima e se per caso è il primo tentativo è proprio beccato quello la sposta la riposizione perché per costruzione al primo tentativo non muori mai se vogliamo si può aggiungere diventa analogica sulla prima mostra la seconda cosa che fa il gioco è quello di permetterti di mettere un segnaposto una bandierina che dice secondo me qua c'è la mina per ricordarti dov'è non la provo non ci vado sopra ma mi segno che secondo me c'è così mi aiuta poi nei ragionamenti quindi vuol dire che l'utente ha due mosse diverse scelgo un posto oppure metto o tolgo un segnalino in un posto queste due cose sono richiedono un po' di lavoro ma sono tutto semplici da fare se lo volete fare ovviamente avendo fatto prima la versione base senza nessuna facilitazione poi si possono aggiungere la terza più complicata che se cliccate su una casella che è a zero il programma automaticamente no estende automaticamente tutti gli zeri e questo è complicato richiede un algoritmo già più sofisticato di painting alla fine di propagazione di questi zeri più avanti ci sarà un esercizio che ci suggerisce come farlo ma è un algoritmo che intuitivamente non è banale da tirare fuori quindi è un giochino ma su questo giochino si possono innestare tante cose curiosi domande suggerimenti dobbiamo solo trovare un carattere che sia più bello della X da stampare purtroppo quella bomba che mi è saltata fuori sballa l'allineamento all'interno del font usato in questo terminale ok se non avete altri dubbi domande vi lascio al vostro panino o quello che sia che sia più bello che sia più bello che sia più bello